Mi chiamo Roberto Ottomare, vengo dalla Calabria, un paesino in provincia di Cosenza che si chiama Rogliano. Elis mi comunicò ad agosto durante le mie vacanze che ero stato preso a frequentare il corso media. Quindi un calabrese che la prima volta viene a Roma, già vedere la tiburtina piena di macchine per me era come se stessi a New York. Io ho frequentato il corso media 3 dal 2000 al 2002. Nel 2001 ho fatto il mio primo stage in wind di tre mesi, ho fatto un anno di consulenza in wind e dopodiché alla fine di questa consulenza sono stato assunto. In wind ho iniziato a lavorare presso la direzione di comunicazione interna e quindi affrontavo temi che andavano dal multimediale alla produzione di video, alla produzione di flash, alla produzione di pagine html per sito internet, alla gestione di nuove interfacce grafiche. Esperienze che avevo assolutamente sviluppato in Elis nei due anni precedenti e sono servito tantissimo a loro perché riuscivo a usare queste nuove tecnologie in maniera abituale. Per otto anni ho fatto questo tipo di attività, poi da un anno a questa parte l'Etti di Wind è stato rivoluzionato. Ci occupiamo soprattutto di processi end to end, la mobile number portability, quindi quando un cliente decide di cambiare operatore, riattivazione e disattivazione delle linee, quei processi che rivestono un carattere, diciamo così, importante perché si vanno ad impattare direttamente sui nostri clienti. Attualmente abito a Roma, quindi sono diventato romano, mio padre ancora stenda a crederci. Sono sposato, ho una bimba di un anno che si chiama Giorgia. Arrivare a casa e vedere mia figlia che mi chiama papà è una di quelle cose che ti ridà una voglia di andare avanti, è fenomenale. L'ho detto che si chiama Giorgia. La carta vincente soprattutto dell'Elis è il college, dove centinaia di ragazzi si incontrano e provengono tutti da realtà, diciamo così, completamente diverse. E questo ti stimola tantissimo a inventarti, a curare tantissimo le relazioni con gli altri. A 30 anni, avere alle spalle già 10 anni di lavoro in questo momento è sicuramente un vantaggio e non è, diciamo così, una possibilità che si dà a tutti quanti. Io sponsorizzo tantissimo l'Elis tra i miei amici, tra le persone che conosco, tra i miei parenti. Io mi sono trovato bene perché non parevo vivere questa esperienza agli altri. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.